Siamo in quattro ad avere la stessa voce, uno per il nord, uno il centro, uno al sud e uno per le isole. Ma non c'è più, è affogato. Ciao Roberto, va e insegna gli angeli a non oltrepassare la linea gialla. Attenzione, sono nato a Livorno, centrale, nel 19, 8, 5, con un parto in ritardo di 10 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Attenzione, attenzione, il treno. Interbisio veloce, 4, 7, 9, 54, 75, 42, 98, 40, 74, 90, 95, 39, 60, 65, 42, 9, 99, attenzione. Qualcuno ha chiamato Ambo? Cinquina? La signora ha chiamato Bingo in sala. Attenzione, attenzione. Non riesco a fare le cose normali come andare a fare la spesa ogni volta che vado da... ogni volta che vado da... salumiere e ordino due etti di Parma, Vico Fertile, Fornovo, Collecchio, Modena, Reggio Emilia, Bologna Centrale. Ci scusiamo per il disagio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.